Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 dei migliori volanti per PS5 del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato il volante originale per PS5 con licenza Sony PlayStation RWA Apex incluso. Il volante per PS5 Apex ha un diametro di 280 millimetri e ha 14 tasti di controllo. Avrai dunque una buona presa e un migliore controllo in pista. Inoltre puoi customizzare questi comandi per personalizzare il volante in base al tuo modo di giocare. Ci sono anche i pedali per una guida veloce, efficiente e facile. Inoltre questo volante è rivestito con un materiale in gomma di fascia alta per un comfort eccezionale. Il volante viene dotato di ventose e un morsetto, pertanto sarai in grado di fissarlo in modo sicuro e rapido al tuo tavolo. Fondamentalmente non rischi di ritrovarlo per terra in caso di movimento improvviso. Insomma, le tue gare con gli amici d'ora in poi faranno fiamme e fuoco. Attenzione quindi! Come al solito su Top Tech, se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet, vai alla descrizione di questo video. Avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato il volante wireless per PS5 ufficiale. Il volante è alimentato da una batteria ricaricabile con un'autonomia di 15 ore per carica. Pertanto ora sarai in grado di collegare la tua console da remoto e sfruttare i controlli in tempo reale. La qualità di questo volante è garantita dal materiale davvero top. Inoltre possiede numerose opzioni personalizzabili, dalle quali trarrà beneficio. Inoltre denotiamo il suo raggio di rotazione fino a 270 gradi e il suo feedback di vibrazione compatibile con PS e PC. Inoltre ha forti ventose e un morsetto per un solido attacco alla scrivania. Possiede infine una pedaliera robusta a grandezza naturale. Molto resistente, anche se è criticato per essere un po' pesante, ti consente di avvertire tutte le più realistiche sensazioni di gioco. Insomma, vai a visitare il link in descrizione. Al secondo posto abbiamo selezionato il volante Logitech G923 PS5 con TrueForce Force Feedback. Con la sua tecnologia TrueForce di nuova generazione, Logitech G923 ti offre il meglio. Possiede una trasmissione a doppia frizione programmabile. Ciò consente un avvio rapido e pulito. Inoltre il firmware avanzato si occupa di controllare costantemente la corrente che alimenta il motore del volante. Tutto questo ti permetterà di concentrarti sul gioco. Inoltre, estrema precisione e realismo unico. Possiede anche indicatori led integrati che ti offrono un'ottima visibilità e ti consentono di sapere quando cambiare marcia. Infine, questo volante è progettato con materiali di alta qualità, per il massimo comfort. Insomma, questo volante ti offre una serie di opzioni davvero molto interessanti per il tuo gioco. Ti invitiamo a testarlo e a lasciarci un commento qui sotto. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet, fai clic sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato il volante per PS5 Thrustmaster T80 Ferrari 488 edizione GTB. Questo volante è il must quando si tratta di corse automobilistiche. Innanzitutto ha due grandi leve sequenziali sul volante. 11 pulsanti d'azione e una croce multidirezionale. Queste ti sedurranno sicuramente e, sai perché? Ti aiuteranno a dare il meglio di te durante le tue infinite sessioni di gioco. Notiamo anche che questo volante Ferrari T80 ha un diametro di 28 centimetri con un rivestimento in trama di gomma. Questo ti offre un'ottima superficie di presa. Infine, il Thrustmaster T80 Ferrari è dotato del sistema Bungee Cord. Esso ti offre resistenza lineare a qualsiasi angolo di rotazione. Quest'ultimo può arrivare fino a 240 gradi e il sistema in questione offre automaticamente il ritorno al centro. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare clic sui link per ottenere tutte le specifiche più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a scegliere, mettici un like e iscriviti al canale Top Tech. Ci vediamo la prossima volta qui su Top Tech. Ciao!